Ed ora voltiamo pagina, questa sera nei nostri studi abbiamo il piacere di ospitare il presidente dell'Associazione Papà Separati di Cremona, Andrea Guarnieri. Buonasera e bentornato. Buonasera, buonasera, buonasera. Dunque, neopresidente appunto perché l'elezione è avvenuta pochi mesi fa, è così? Sì, 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 un incarico importante, ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno votato. Per me è una grossa responsabilità, però sono anche profondamente onorato da questo impegno che spero di poter continuare nel miglior modo possibile. Senta, presidente, negli ultimi mesi mi diceva che avete notato un vero e proprio incremento di persone, non solo di papà separati, ma anche di persone che sono dei familiari diretti appunto che si rivolgono a voi per delle difficoltà importanti. Sì, sì, spesso accade e ci si rivolga a noi direttamente la nuova fidanzata del papà separato o il nuovo fidanzato della mamma separata. Questo proprio perché c'è la volontà, si sente la necessità all'interno del nuovo nucleo familiare di portare un aiuto, nuove informazioni o comunque risorse che apparentemente non ci sono. Invece serve una guida e un sostegno appunto legale, sociale e abitativo che possiamo anche essere noi, ecco, oltre chiaramente al Comune e a tutti gli antiproposti. Ecco, dal punto di vista abitativo mi diceva che avete trovato anche nuovi alloggi. Sì, la Fondazione Nobile Annibale Maggi di Seniga ci ha proposto sei alloggi a canone agevolato che vogliamo appunto destinare ai papà più bisognosi. Tra l'altro sono anche alloggi protetti che a nostro avviso andrebbero utilizzati anche magari per alcune donne in difficoltà, parlo delle donne maltrattate, perché sono collocate all'interno di una RSU, quindi c'è una condizione di particolare protezione e quindi di attenzione. Voi siete sempre molto attivi sul territorio e ci sono numerose iniziative che avete in programma. Sì, sì, a partire da oggi stesso e nella giornata di domani si terrà il Family Care, che è un festival per la famiglia e sulla famiglia che si tiene appunto a Brescia, ad Ambiente Parco, presso il Piazzale Arnaldo, dove ci sono numerose associazioni che proprio trattano il tema della famiglia, quindi un momento per stare con i propri figli, per acquisire nuove informazioni e per passare dei momenti tranquilli e felici e sereni. Inoltre voi avevate ideato un particolare gioco che abbiamo presentato tempo fa e che è il discorso grande successo. Sì, avevamo presentato il progetto circa un anno fa, poi abbiamo realizzato il progetto stesso, sta avendo molto successo soprattutto all'interno dell'ambito del bullismo, perché sembra questo gioco riesca a far emergere alcune problematiche legate appunto ai maltrattamenti o al bullismo dei ragazzi. A tal proposito io ringrazio la dottoressa Paola Catenati, la responsabile del CRIEF, che in questo senso ci sta veramente sostenendo. Oltre a questo ringrazio anche il comune di Forte dei Marmi, che ci ha molto stupito questa cosa, però ci fa profondamente onore, ci ha chiesto di presentare il gioco in loco. Ecco, loro, la stessa amministrazione di Forte dei Marmi, da tempo è vicina alle tematiche dei genitori separati. Il nostro gioco è piaciuto molto all'ente, quindi ci hanno chiesto di presentarlo e a dicembre faremo questa cosa. Benissimo, Presidente, per il futuro? Per il futuro le cose sono talmente tante che adesso non sarei assolutamente in grado di dirle tutte. Posso anticiparne qualcuna, ci sarà un importante convegno di chiusura dei lavori a fine anno e successivamente dall'anno prossimo troveremo una nuova applicazione del gioco, ma di questo non posso ancora dire nulla. Benissimo, ringraziamo per essere stato qui con noi, è sempre un gran piacere, grazie, arrivederci. Anche per me è un immenso piacere, grazie mille, grazie a lei.